Sindaco, oggi purtroppo nel giorno più sentito dalla comunità oricenze questa tragedia che sconvolge l'intera popolazione. Voi vi siete trovati ad affrontare la situazione con la Santa Messa, il rito religioso e poi per il resto una festa in tono minore. Noi siamo come comunità vicino alla famiglia che ha subito questo gravissimo lutto, non preveribile, improvviso. Io partecipiamo ogni anno a questa festa del padrono con la cerimonia antichissima del senato. Io ho sentito l'obbligo e il dovere per stare vicino ai familiari di abolire questo senato per quest'anno. Quindi non verrà affatto, aspettiamo il vescovo adesso che arriva da qui a poco. Insieme a lui celebrerà la Messa e noi ascolteremo la Messa. E poi la Chiesa deciderà cosa fare per quanto riguarda il proseguimento della manifestazione. Da quello che è dato sapere, perché abbiamo avuto un incontro pure con Padre Simone, faranno una piccola passeggiata di San Sebastiano qua vicino alla Chiesa di Santa Maria. Poi vanno in via Algerina dove c'è la cerimonia del passaggio nell'acqua del Torrente Galagni e poi viene portata a Santa Nicola e se ne parlerà domanica prossima. Per quello che riguarda la parte folcloristica, anche le bancarelle e tutto il resto, avete lasciato alla sensibilità chiaramente degli operatori? Per quanto riguarda le bancarelle abbiamo dato la disposizione ai vigili di non farli pagare per oggi perché la festa è dimezzata, la festa non c'è più, non c'è nel cuore, non c'è neanche nello spirito di tutti noi. Se qualcuno vuole andare via può farlo, se qualcuno vuole restare può restare. Sono solo date indicazioni di non fare musica, di non fare un comportamento che può sorrecare disturbo o un momento di lutto. Oggi per noi è un giorno di lutto.